Buongiorno, buon lunedì, è lunedì 14 ottobre, inizia una nuova settimana di Good Morning Milano, una nuova settimana con Crystal Radio. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, come state? 7.08, si inizia questa mattinata, è lunedì, quindi avete sicuramente un bellissimo sorriso sul viso, sono pronti ad affrontare questa città, ma noi lo facciamo venire, il sorriso, la nostra missione è quella di rendervi la mattinata più dolce, più energica, più facile da affrontare, così che poi la giornata vada miglio. Avete visto ieri il tramonto? Tutti quanti l'avete visto? Bene, oggi avete visto anche l'alba? Non so, perché insomma era interessante quello, come diciamo noi, è bello il tramonto, ma vuoi mettere l'alba quando ci siamo noi a darvi la sveglia? Fra poco c'è ancora buio, c'è ancora un bel buio fuori, quindi insomma siamo in quel periodo dell'anno in cui è anche abbastanza semplice vedere l'alba, perché insomma c'è ancora così buio fuori che possiamo permetterci di non doverci alzare ad orari assurdi. Ma, 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 molti di voi sono già in giro, sono già in giro per la città, pronti, affaccendati nelle loro faccende, e allora diteci cosa state facendo al 3317853555. Quanti di voi questa mattina per andare al lavoro hanno cambiato strada, ad esempio, perché finalmente possono prendere la M4. Siete contenti? La linea blu che, tra parentesi, ricordiamo che è anche il passante segnato di blu, quindi magari, non so, pensare a un altro colore non era male come idea. Comunque, M4, pronti? Avanti? Marsha! Hi, this is Jeremy Allen White. Come state? Sono io, sì, sono Jeremy Allen White. Sapete chi sono? Sì, quello lì è bello che fa The Beer, sono lui. Sì, no, no, scusate, no, non so se avete sempre sentito, questa qui è la colonna sonora in un'altra versione di uno spot che sta girando in questo momento in cui il povero Jeremy Allen White, attore di Shameless e di The Beer, dimostra al mondo di non saper bere. Poverino, nel senso, ha un problema probabilmente agli arti superiori per cui non può. Cioè, si butta dell'acqua addosso, non so, in canottiera a Chicago, credo, poi fa freddo. Cioè, occhio, Jeremy, che potresti anche poi pentirtene un giorno. Comunque, Crimson & Glover, alle 7 e 14 minuti qui su Crystal Radio, grazie dei Whatsapp che stanno arrivando. Alberto, che ci dice buona settimana a Fabio, a Beatrice e Ginevra, a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio. E piove, sta già piovendo, no? Io ho tirato dentro la roba, sì, ho tirato dentro la roba. Qua pioveva Beatrice quando sei arrivata, mi insegno, no, non pioveva ancora, infatti dieci minuti fa non pioveva ancora qua, però, molto probabilmente, sta iniziando in alcune zone di Milano, però, insomma, oggi in teoria non doveva piovere, doveva essere una giornata un po' qui, un po' là, ecco, diciamo così, però, non è che possiamo pretendere tutto, ci ha fatto passare anche il weekend bene, dai, alla fine, pensate, doveva, invece, weekend, perfetto, no, sole, bello, si stava bene, ieri siete andati in giro sicuramente anche voi, e invece sabato cosa avete fatto? Allora, sabato hanno inaugurato l'M4, allora, iniziamo dalle belle notizie, no, poi dopo magari parliamo anche delle altre, però, iniziamo dal fatto che, insomma, finalmente Milano ha una linea degna di questo nome nella parte est e sud-ovest della città, unisce zone molto, molto popolose, come ad esempio tutto l'asse del Giambellino, fino poi a toccare, a lambire quasi la Barona, no, perché, insomma, siamo lì quasi, 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 no, San Cristoforo, hanno fatto il ponte che va dall'altra parte del Naviglio, di là inizia la Barona, sì, forse una fermata in più, non era male, come mi dico, mi dia, comunque fa niente, sempre a lamentarti, Fabio, ma no, va bene così, no, infatti. Sabato hanno inaugurato, io sono stato all'inaugurazione, l'avrete visto, magari, anche sui nostri social, abbiamo messo delle stories, un bel reel, dove abbiamo fatto vedere tutto quello che è stato la mattinata, presenti, ovviamente, tutti quelli che dovevano essere presenti, dal sindaco Sala al ministro Salvini, c'erano quasi, c'erano tutti quanti, è molto, molto interessante anche sentire i discorsi, comunque, che sono stati fatti dalle istituzioni che promettono altre linee, che vedono questo come il lancio per una Milano nel futuro, un po' mi fa sorridere, nota margine, dico, un po' mi fa sorridere che, insomma, la realizzazione di una metropolitana nel 2024 si è vista ancora come un'opera epocale, come un'opera che abbiamo fatto chissà cosa, adesso, è un'opera ingegneristica stupenda, ogni volta che si fa una cosa del genere, poi, davvero, la grande eccellenza dell'ingegneria, in questo caso italiana, delle TBM, le famose talpe che scavano, che sono un'invenzione italiana, quindi, chapeau, come si dice in questi casi, dopodiché, però, mi sembra ormai, per una città del cadere di Milano, mi sembra il minimo sindacale a avere delle metropolitane, cioè, so che, chiediamo tanto, sì, lo dico spesso, chiediamo tanto perché l'asticella è alta, ma perché Milano è degna e necessita anche di avere certi servizi. Tutto molto interessante, i cantieri, insomma, non sono per niente finiti, sono ancora tutti aperti, praticamente, si passa in mezzo ai cantieri quando si entrano nelle varie stazioni, vedremo nei prossimi mesi, magari per Natale, se riesce a fare qualcosina, c'è ancora tanto, tanto lavoro da fare, l'M4 è molto, molto comoda, ieri, ieri, abbiamo fatto un altro viaggio di test da San Cristoforo fino all'aeroporto di Ninate, meno di mezz'ora eravamo lì, ci mancava solo un trolley e potevamo tranquillamente essere in qualsiasi altra parte d'Europa, e quindi ormai Milano è l'Europa. Con la pesce malvagità, le 7 e 20 minuti qui su Crystal Radio, il cielo, dice, il cielo ieri sera, l'avete visto, si è colorato di rosso, tante ho visto di voi fotografare il tramonto, come vi dicevo, però volete mettere in risveglio con noi, ah, è tutta un'altra cosa, svegliarsi con Good Morning Milano nelle vecchie, con il vostro Jeremy Allen White di San Siro, sono io, sì, sono io per quello. Comunque diciamo dell'M4, davvero, sabato è una giornata molto molto interessante, è bella, l'inaugurazione è venuta la mattina con le autorità e con tutti quelli che devono esserci, tanta stampa, abbiamo visto tanti amici, anche da Andrea Kerchi, agli amici di ATM Shitposting, abbiamo chiacchierato un po' anche con tutti gli altri amanti, diciamo, di questa città, poi nel pomeriggio, appunto, alle 13.30, allo scattare dell'ora X, l'apertura di tutta la linea, che appunto, finalmente, da San Cristoforo va fino a Linate, 27 minuti il tempo che ci vuole per andare per il Ceruttigino, da andare da Gianvellino fino a Linate, tra parentesi, insomma, e unire due canzoni famosissime, come ad esempio, appunto, la ballata del Ceruttigino, la ballata del Cerutti, e ad esempio, portare Scam the Tennis, che andavano sul Forlanini, ecco, e ne repetti, e lì si possono trovare, finalmente, diciamo, che i due protagonisti di queste canzoni, degli amici Gaber, si possono finalmente incontrare sulla M4, che diventa una linea che unisce, unisce davvero una zona della città che necessitava di una linea metropolitana, infatti lo fa capire anche il fatto che si chiami M4, quindi che era stata concepita, progettata, e che doveva in teoria vedere la luce molto prima della M5, che invece è arrivata per via di Expo, in realtà poi ha superato, diciamo, sulla destra ed è arrivata prima. La zona della città, ad esempio, come Santa Sofia, quella zona lì, diciamo, della cerchia interna, della parte est, diciamo, sud-est della città, che era completamente sguarnita. Adesso, invece, è coperta da questa ottima linea, molto efficiente, tra parentesi, molto belle anche le stazioni, molto, posso dire, ahimè, io sono un grande estimatore della mia linea Lilla, che è quella che arriva fino qui agli studi di Good Morning Milano, però posso dire che le stazioni di M4 sono molto più belle, sono molto più spaziose, molto più larghe. Il capolinea di San Cristoforo è quello che si definisce un capolinea, non come quello di San Siro Stadio, che è una stazione che ha preso un po' gli steroidi e basta, nel senso, niente di più. Bellissime le stazioni anche di Policlinico Sforza, fatte molto, molto bene. Ecco, l'unica cosa, invece, qui iniziano un po' le note dolenti, il famoso passaggio della linea blu verso la linea gialla, quindi che, appunto, da Sforza Policlinico dovrebbe unirsi a Missori, secondo le indicazioni date dalla segnaletica, anche, di ATM, è veramente una cosa assurda, inutile, cioè, nel senso, non esiste, non esiste il collegamento, è inutile che scrivete che c'è il collegamento, non esiste, anzi, mi viene più, forse, comodo andare verso Crocetta, al momento, e non lo so, hanno fatto un'uscita che va verso la camera mortuaria, perché lì c'è la camera mortuaria del Policlinico, quindi ci passate proprio davanti, ci passate, e attraversate, poi andate dall'altra parte, verso l'università, uscite fondamentalmente davanti a Via Pantano, e poi dovete prendere tutto a piedi Via Pantano, dove c'è Assolombarda, intendoci, così vi do dei riferimenti che magari avete visto, lì girare a sinistra, dove c'è la Torre Velasca, e lì sotto prendere la fermata Missori. Ecco, non è proprio la cosa più comoda del mondo, e al momento non mi sembra neanche ben segnalata, però io lì, vabbè, aspetto un attimo. La segnaletica, ecco, lascia un po' desiderare in questo momento, ma, ripeto, tutte le stazioni, praticamente quelle che ho visto, non hanno terminato i lavori esterni, soprattutto, e anche internamente ci sono un po' di, insomma, quisquiglie da sistemare. L'ultima nota, che non ho capito perché è così, fermata San Cristoforo, ha un'uscita direttamente sui binari della stazione, perfetto, sulla banchina del binario 1, ma non ha le uscite sulla banchina del binario 2 e il binario 4, e soprattutto non è collegata con il tunnel delle banchine della stazione, quindi dovete uscire e rientrare, nel caso dovreste prendere un treno che parte dal binario 3 o dal binario 4, ecco. Non so, forse si poteva fare qualcosa di meglio anche lì, eh? Buon lavoro a tutti. La prima parola della settimana è Agility Working. Chi lo propone? Lo propone l'azienda farmaceutica Organon. Sentiamo la direttrice esecutiva, Flavia Binetti, che lo spiega. Lavoriamo da casa quanto vogliamo e in ufficio quanto vogliamo. Quando riteniamo utile andare in ufficio, prenotiamo la scrivania, ma non c'è controllo orario. E aggiunto, se per una settimana, per qualsiasi motivo, non vado fisicamente in ufficio, nessuno solleva il problema. Oppure, viceversa, se ci devo andare tutti i giorni, è mia totale discrezione. Libertà, dunque, incredibile a Organon, che consente, ad esempio, di essere presenti in famiglia in alcuni momenti importanti. Interessanti le conclusioni della Binetti su questo modo di lavorare. La flessibilità sul lavoro, ha detto, ha generato in tutti noi un incredibile attaccamento all'azienda e ai risultati. Bel modello a cui guardare con attenzione. La seconda parola della settimana è auto-va-lu-ta-zione. Addio ai premi decisi dai capi. Saranno i lavoratori ad auto-valutarsi, decidendo il bonus di risultato che riterranno di meritare, senza appunto che il consiglio di amministrazione possa eccepire. Dove accade? Accade alla ATON, il gruppo informatico di Villorba, in provincia di Treviso, che impiega quasi 250 addetti. Abbiamo sostituito i vecchi sistemi gerarchici con modelli basati su ingaggio, fiducia, obiettivi e auto-organizzazione dei team di lavoro. Lo ha detto il fondatore e CEO Giorgio Denardi. Saranno dunque i collaboratori a sancire il premio che riterranno di meritarsi. Anche questo è un modello interessante da qui a guardare. La terza e ultima parola chiave della settimana è FORMAZIONE. Bellissimo gesto in memoria e nel solco del fondatore di Luxottica, Leonardo del Vecchio. Pensate un po', dieci borse di studi all'anno alla Bocconi, per sempre, per i giovani, con limitate possibilità economiche. è appunto la decisione della fondazione intitolata a Del Vecchio. Ben 20 milioni sono stati donati alla Bocconi per sostenere chi si forma per entrare nel mondo del lavoro. Ed è la prima volta che accade in nome di Del Vecchio. E allora, buon lavoro a tutti! Carol G, si antes te hubiera conosci Vido, se ti avessi conosciuto prima, quello che pensi tutte le mattine quando vieni qui a Good Morning Milano, parlo con la mia producer, se solo ti avessi conosciuto prima non sarei mai venuto a fare la producer a Good Morning Milano. Bene, grazie mille ancora Beatrice al lavoro che sta facendo e ha fatto fino ad oggi, chissà se domani lo faremo ancora fare, no scherzo, anzi, è fondamentale, le ragazze da regia sono fondamentali, non sarei qua a parlare del nulla e del niente se non ci fossero loro, quindi grazie davvero per il lavoro che fanno ogni giorno e grazie anche a voi per i whatsapp che ci mandate. Alberto ci ha mandato un whatsapp dove ha detto che ha fatto una prova, c'è scritto prova di M4 a San Cristoforo, manca l'illuminazione al termine del ponte prima di entrare in stazione, è quello che dicevo prima, nel senso, allora, è fantastica, le stazioni sono bellissime ma non sono finite, il problema è questo e soprattutto, sembra una barzelletta, ma ieri. Primi disagi sulla M4, leggiamo da Repubblica Milano, M4, disagi già nel primo giorno, stop ai treni per problemi ai software, ascensori fermi, scale mobili senza collaudo e tornelli vecchi, la stessa cosa ce la racconta anche Corriere della Sera che dice M4 guasto sulla nuova linea metropolitana blu a meno di 24 ore dall'inaugurazione, sospesa per 35 minuti, la circolazione su tutta la linea, treni bloccati appunto per più di mezz'oretta, la comunicazione a TM e viaggiatori sull'app, i tecnici dicono, hanno detto appunto che c'erano delle verifiche in corso e quindi il giorno dopo l'inaugurazione c'è stato già il primo stop, ma ripeto, ma perché non è ancora finita, cioè è finita la linea, funziona benissimo ed è stupenda, però si vede che non è ancora finita, ci sono i cantieri aperti, ci sono, mancano alcune insegne, alcune stazioni, fuori dalle stazioni non vi dico, cioè non c'è una stazione che non sia cantierizzata fuori, da quella di San Cristofo dove stanno costruendo tutto il ponte ancora, che comunque hanno aperto in parte, quindi non ci si aspettava questa apertura, meno male, per fortuna, così che anche quelli della Barona possono venire da questa parte qui, quelli dell'altra Sponda del Naviglio possono venire dalla parte di qua, ma qualsiasi, Sforza Policlinico è un cantiere fuori, ma quasi tutte ormai sono ancora cantierizzate, Frattini c'è ancora cose aperte che vanno chiuse, cioè è tutto, è tutto ancora un po' cantierizzato, però insomma, serviva questa linea e finalmente ce l'abbiamo. A margine, come dicono in questo caso, dell'inaugurazione, il sindaco Sala ha anche detto, insomma, io adesso inauguro questa, sto già lavorando per le prossime, che io non potrò inaugurare, quindi saranno i miei successori a inaugurarle in più, ha ringraziato invece i suoi predecessori, era presente anche l'ex sindaco Albertini e Sala proprio dal palco, durante il suo discorso, ha ringraziato i sindaci prima di lui, dicendo appunto Milano è la città dove i sindaci, a prescindere dal colore politico, fanno opere e si va avanti, soprattutto in questo caso parlando di mobilità. E ha avuto appunto un endorsement da chi verrà dopo, senza però esporsi, senza però fare nomi, perché ricordate settimana scorsa aveva fatto un nome, quello di Mario Calabresi, ha fatto questo nome, dopo praticamente un quarto d'ora è arrivata la smentita di Calabresi, dice no ma grazie mille, ma io di fare il sindaco non ho nessuna voglia. E allora su Repubblica Milano infatti c'è un articolo che dice Milano, la retromarcia del sindaco Sala, sul candidato alla mia successione non dirò più una parola, basta sto zitto, non dico più niente, che se no ogni volta capo in bocca mi dico che sbaglio. La volontà di chiudere l'incidente diplomatico con il PD dopo l'improvviso endorsement per Mario Calabresi, c'è tutto il tempo per i protagonisti di vagliare idee e nomi e modi senza che io interferisca pubblicamente. Perché sì, perché il PD si era un po' risentito dicendo scusate ma non è che lo sceglie il sindaco, il prossimo sindaco, cioè appunto parliamole tutti insieme. E c'è stato un po' un momento così di bagarre e di incidente diplomatico appunto tra il sindaco Sala e il Partito Democratico di Milano. Quindi adesso ho detto Sala, io non dico più niente, però Sala ti ricordo sempre che se vuoi io sono qua prontissimo. Giulia Meikon Giulia Meikon Bandiera e insomma perché abbiamo messo questa canzone? Nulla è messo al caso qui. Sentite già dei piccoli rumori di sottofondo perché si sta preparando per parlare con noi chi? La protagonista di questa mattinata con noi e della serata milanese del suo mini tour di basking sto parlando di Luna Spina Caruso. Buongiorno Luna Spina. Buongiorno. Allora Luna Spina dicevo nulla è lasciato al caso perché adesso con te adesso non so la che parte iniziare perché sono tantissime le cose con cui parlare di te non abbiamo tutta la mattinata a disposizione quindi dobbiamo cercare di fare abbastanza un fil rouge di seguire una scaletta precisa. Allora Luna Spina Caruso artista cantante con la voce di Dio qualcuno ha detto così o sbaglio Luna Spina qualcuno ha detto questa cosa? Sì sì è stato detto questa cosa per sé. Ecco un tale Jake Lafour ha detto questa cosa qui comunque appunto perché te l'ha detta perché tu sei stata una concorrente di X Factor hai fatto le audition a X Factor ed è andati in una maniera un po' particolare va bene come definizione? Audizione e bootcamp e bootcamp bravissima ecco i bootcamp sono andati un po' in maniera particolare mi sembra un aggettivo corretto? Beh io sono felice di come siano andati naturalmente non voglio fare l'ipoprita mi sarebbe piaciuto andare avanti nel programma essendo un gioco uno vuole giocare finché riesce però non mi lamento alla fine essendo un gioco appunto l'essere non andata avanti comunque mi ha dato paradossalmente molto probabilmente più eco che se fossi andata avanti ma infatti alla fine sono contenta Luna Spina io che voglio pensare male secondo me l'ho fatta apposta perché non sei solo tu appunto perché ho appena presso Giulia May con Bandiera abbiamo avuto qualche settimana fa in collegamento a una Castiglia cioè voi siete quelle che non fanno X Factor ma sono più famose di quelle che fanno X Factor alla fine com'è sta storia? beh io credo che nel cantautorato odierno italiano X Factor comunque naturalmente è una vetrina importante per qualunque cantante per qualunque musicista perché X Factor è un talent è televisione è nazionale quindi hai una visibilità nazionale fin anche internazionale no? in certi casi pensa a quando quando ti spuntano vedi su YouTube l'X Factor Romania l'X Factor UK Spain cose no? quindi è anche un'eco abbastanza grossa un cantautore non andrà mai né a X Factor né altrove ok? di voi saremo addirittura con il dichiarato intento di vincere perché non fai cose mainstream no? ci vai perché è veramente l'importante partecipare veramente la vittoria è già essere lì e insomma la prova appunto è anche l'eco che avete avuto tu e anche le tue appunto dei tuoi colleghi nonostante magari appunto non si passi poi alla fase finale la cosa interessante è che tu però sei davvero una sorta di remida nel senso che non tu che fai diventare le cose d'oro ma le fai diventare belle in un certo senso ma appunto c'è una grazie questo è un complimento meraviglioso si rifletta la prossima volta che cerco di pagare l'affitto e non trasformo le cose in oro ok ci proviamo va bene no perché dicevo allora appunto quello che potrebbe un'altra potrebbe dire ecco no non mi hanno preso adesso la mia vita è finita e tutto invece tu ci vedi la positività fanno un articolo su di te sulla Sicilia giusto era il giornale ok insomma un articolo non proprio bellissimo bene ma non benissimo come direbbe un collega dello sport ma tu riesci a fare un qualcosa che è magico ce lo puoi raccontare come è successo perché io sono rimasto senza parole da quello che hai fatto ti ringrazio ti spero senza parole in senso positivo sì 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 dunque per uno che parla tutte le mattine in radio lasciata senza parole è una cosa non mica facile sei riuscita nell'impresa e allora ne sono lieta e ti ringrazio ne sono lusingata dunque sì il bene ma non benissimo riassume un po' tutto quello che era l'articolo ai miei occhi cioè era pieno di complimenti di cose belle e tutto però aveva questa frase un po' un tantino infelice che io non sono riuscita a passarci sopra mettiamola così perché appunto ho voluto fare un discorso di linguaggio inclusivo di genere che è una cosa che nel 2024 trovo sia una tematica importante su cui doversi soffermare concentrare focalizzare rifletterci sopra più di quanto si facesse in passato perché penso che la società si evolva il linguaggio si evolve con la società e viceversa Roberto Vecchioni ma anche Veragheno che ha fatto un podcast sul mio caso molto interessante si pongono questa domanda è la realtà che condiziona una lingua il linguaggio o viceversa il linguaggio che condiziona la realtà beh entrambe le cose quindi ho voluto approfittare di questa di questa cosa per non fare il shitstorm dopo il mio body shaming journalist shaming queste cose qua no perché sottolineava il fatto che tu avevi una fisicità non proprio da modella e tu hai detto ma non facendo una modella dovrebbe avere una fisicità da modella exfactor non sto facendo Miss Italia infatti e quindi insomma ti poni per essere valutata esteticamente perché è una competizione estetica ma io non sto andando a fare una competizione estetica quindi tu giustamente hai sottolineato questa stortura nell'articolo io nella vita faccio la cantante non faccio la modella ok hai usato tra parentesi molto bello per quello prima vi ha messo hai usato poi per dimostrare che fa da cantante diciamo la canzone di Giulia May Bandira che abbiamo appena ascoltato esatto la canzone l'inno l'inno manifesto meraviglioso di Giulia ok sta di fatto che però la giornalista che ha scritto questo articolo ti ha risposto e non ti ha mandato a quel paese anzi avete fatto il miracolo cosa avete combinato infatti è stata molto matura e ho visto della sincerità dell'autenticità dell'umiltà nel fatto che sia venuta proprio a casa mia per porgermi le scuse per farmi un'intervista e abbiamo trasformato questa cosa all'inizio sicuramente un po' spiacevole in un'occasione di tavola rotonda per parlare di tematiche importanti e soprattutto per rafforzare un concetto a cui io tengo moltissimo e so che ci tiene molto anche la giornalista Carmela Marino la sorellanza che è molto importante c'è la solidarietà tra donne che devono mettersi insieme contro contro un sistema che le vorrebbe invece in competizione costante infatti questo l'avete sottolineato più volte e infatti è stato molto interessante anche questa cosa qui siamo noi le prime che dobbiamo crederci nella sorellanza e smettere di farci mettere l'una contro l'altra però tutti si stanno chiedendo ok ma perché abbiamo Luna Spina al telefono questa mattina perché Luna Spina sta arrivando a Milano giusto? esatto sì ho il treno a mezzogiorno perché sei in tour anzi mini tour come lo definisci tu di basking mini basking tour ok cos'è il mini basking tour? dunque il basking è la terminologia tecnica per definire l'arte da strada in tutte le sue forme quindi non soltanto musicale se fai una performance artistica per strada tu stai facendo basking e sei un basker io sono una basker ormai da diversi anni e quindi ho pensato adesso che devo cavalcare l'onda no? sulla falsa riga di X Factor che qualcuno capita addirittura che mi riconosca per strada cosa allucinante a cui non sono abituata ho pensato beh vado io nelle piazze delle case delle città degli italiani a farmi conoscere di più no? a consolidare questa questa nuova fan base che da solo a dirlo che una fan base mi fa stranissimo no? e quindi sto facendo delle tap ho fatto Napoli ho fatto Roma adesso tocca a Milano sarò a Milano oggi e domani a fare basking proprio al Duomo le postazioni prese su Open Stage che come saprete è l'applicazione di prenotazione e gestione degli artisti di strada a Milano devo ringraziare Gae è un cantante cinese di Milano che mi ha ceduto la sua postazione alle 17 lo ringrazio pubblicamente perché questa solidarietà tra artisti di strada è molto importante purtroppo è anche rara e quindi avrò la postazione alle 17 al Duomo un'altra alle 20 se insomma è un orario un po' strano a Milano alle 20 fa freddo vediamo un po' e domani stessa cosa alle 17 in piazza Duomo ah anche domani quindi due giorni dove potete incontrare Luna Spina Caruso appunto nelle nostre strade e sentire quella famosa voce di Dio così come ha detto appunto Jake La Furia dopodiché proseguirò per Bologna già dico adesso se c'è qualche ascoltatore che debba fare sei stata a Napoli a Roma adesso a Napoli a Roma perfetto ok posso dire una vai vai ci fosse qualche ascoltatore che debba fare martedì notte o mercoledì mattina molto presto Milano Bologna ecco io un passaggio non dire di no lo prendi volentieri benissimo invece tutti quanti si domandano come sta il tuo gatto la tua gatta giusto ma io invece mi chiedo come sta ma io mi chiedo perché ricordiamolo primpi la merda insomma tutti gli hanno voluto un bene dell'anima ma invece mi chiedo Nina Zampogna come sta a questo punto bravo io ogni volta che mi dicono salutami primpi la merda dico eh ma anche Nina Zampogna poi ci resta infatti hanno litigato le due oppure si vogliono ancora bene no si ignorano loro coesistono sono io l'anello che le congiunge no e allora sappi sappi Luna che qui nasce il team Nina Zampogna sappi oh che bello che bello dalla parte dei dimenticati siete canari quindi siete canari quindi sì 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 siamo canari per quello che bello e Ninetta e primpi sono con mia mamma quando io parto è l'unico lato negativo della mia attività artistica quando non ci sono non sono loro con me però un bravissimo artista di Roma e un maestro Francesco Sabetti ha fatto un ritratto di primpi e ora ne farà un altro su Nina Zampogna così che io le posso avere con me quando canto per strada bellissima bellissima no insomma saranno lì con te sempre quindi va bene Luna Spina Caruso grazie mille e buona cantata buona suonata e buon basking oggi allora va bene grazie mille buon viaggio prima anzi ti aspettiamo qui a Milano allora alle 17 e alle 20 in Piazza del Duomo e poi anche domani alle 17 giusto? esattamente grazie infinite e un saluto a tutti i radioascoltatori grazie mille questa era Luna Spina Caruso andiamo avanti con un po' di musica perché vedo già dall'altra parte del vetro i nostri ospiti dopo parliamo di stadio lo sapete cioè sempre lì si finisce qua a Milano ormai non facciamo nient'altro che parlare di M4 che apre ma apre coi problemi e lo stadio che non si sa dove finirà da qualche parte prima o poi forse finirà ma non sappiamo bene dove grazie ancora a Luna Spina Caruso e andiamo con un po' di musica e poi torniamo con i nostri ospiti adesso è il momento di Nelly Furtado I'm like a bird Michael Jackson Black or White il Crystal History delle 8 sono le 8 e 10 ed eccoci qua di nuovo a Good Morning Milano 33178 53555 sempre il nostro numero di Whatsapp che potete scrivere grazie anche per averci iscritto Adriana che ci ha scritto ringraziando dell'intervista a Luna Spina Caruso e anche contenta di aver sentito su Crystal Radio il manifesto così appunto viene ormai definito la canzone bandiera si chiama appunto di Giulia May fatevi un giro e cercate Giulia May bandiera è davvero davvero molto interessante ma le risentiremo e le riscolteremo ancora sicuramente nelle prossime nei prossimi giorni oggi abbiamo qui un nostro ospite anzi un nostro amico che è tornato a ritrovarci sto parlando di Fabio Songa buongiorno da quel di Chiravalle buongiorno Fabio buongiorno a chi ci ascolta e allora da Chiravalle con furore arriva appunto Fabio Songa che ci viene ad aggiornare sulla situazione Stadio ma non solo Stadio anche Unesco perché insomma state facendo delle manovre molto molto interessanti allora iniziamo dalla questione Stadio cosa dicono gli arbusti di Chiravalle cosa dicono le zone interessate ma direi che c'è una grande confusione sotto il cielo per citare qualcuno la situazione è molto in movimento io posso dirti che come comitato abbiamo fatto un'audizione in città metropolitana due settimane fa e sono rimasto assolutamente colpito dall'attenzione che ci hanno riservato abbiamo fatto due ore e mezza di dibattito serrato in cui ci hanno ascoltato hanno condiviso le nostre obiezioni e soprattutto abbiamo capito che la maggioranza in città metropolitana è contraria allo stadio e siccome città metropolitana è uno dei quattro enti che partecipa all'accordo di programma questo per noi è molto importante adesso ci stiamo io personalmente noi di Chiravalle ci stiamo orientando anche molto sulla questione Unesco ecco perché cosa avete pensato di fare molto bene posso dire sarebbe stato andava fatto a prescindere dallo stadio no no di fatti su questo io vorrei essere molto chiaro per evitare fraintendimenti e l'ho detto anche in tutte le sedi istituzionali in cui sono stato presente la questione di Chiravalle patrimonio dell'umanità Unesco l'abbiamo posta la prima volta ufficialmente in un documento nel 2011 partecipando a un bando europeo come associazioni in collaborazione con la allora provincia di Milano e con il comune di Milano da allora noi ne abbiamo parlato in tantissime occasioni abbiamo fatto tanto perché le istituzioni recepissero questa nostra proposta quindi in una estrema sintesi la questione di Chiravalle patrimonio dell'umanità è assolutamente indipendente dalla questione stadio però Chiravalle patrimonio dell'umanità è incompatibile con uno stadio a San Donato ecco la questione patrimonio dell'umanità Unesco non è solo però appunto avere una bandierina avere un punto in più su una mappa o un cartello marrone per intenderci che dica qua c'è un patrimonio Unesco e ben di più sì guarda è molto 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 di più nel senso che proprio all'ultima riunione delle commissioni del comune a cui ho partecipato in più interventi hanno detto che è un viaggio che abbiamo cominciato a intraprendere ma che tutto sommato la meta è meno importante del viaggio stesso il concetto romantico della tensione verso perché questo non è una banalità perché per ragionare e per fare il percorso che è molto lungo complicato dopo magari posso dire qualcosa in proposito bisogna mettere in moto tante forze tante idee tante intelligenze io devo dirti per esempio che tramite un'amica ho contattato la maggiore storica che si è occupata dei benedettini dei cistercensi di Chiaravalle e quando le ho detto questa cosa era entusiasta e si è offerta come poi sarà per far parte del comitato scientifico che discuterà di queste cose dopo magari spiego un po' bene quali saranno i passaggi che sono tanti e lunghi e complicati ma infatti dopo ce lo spieghi bene prima però ci ascoltiamo una canzone che arriva proprio da voi come tutte le olimpie diciano loro inno ad esempio e quindi anche il gruppo di Chiaravalle gli antagonisti dello stadio o anzi i fautori della abbazia chiamiamoli così insomma avete una sorta di inno e quindi adesso ce l'ascoltiamo poi ci racconti anche come è nata questa idea come è nata appunto l'idea di avere una canzone che racconti Chiaravalle racconti quel luogo che punto magico che è l'abbazia e non solo perché poi ricordiamo che noi parliamo sempre di abbazia ma c'è tutto il borgo c'è tutto poi quello che è la zona intorno all'abbazia di Chiaravalle che insomma è importante e che insomma viene minacciata dall'arrivo chissà appunto di questa costruzione immensa in mane di questa opera in mane che potrebbe essere lo stadio appunto di San Donato che poi comunque è lì proprio lì a confine è proprio attaccato lì a Chiaravalle e questa è la canzone di Chiaravalle la voce di Fabio Valenti testi di Claudio Bernieri con le voci sotto il vestito anche di Francesca Fagiani le chitarre l'arrangiamento di Luciano D'Addetta però non ne hai fatta difficile e basso Enrico Santarelli la batteria di Sergio Bellotti il violino di Gianfranco Messina il piano di Sonia Vettorato come dicevo appunto testo e musica di Claudio Bernieri come siete arrivati a una canzone così cioè interessante quasi quasi anche di altri tempi mi viene da dire e soprattutto mi piace che tirati in ballo ancora i monaci che alla fine ricordiamo sempre in tutta questa storia il sottotitolo potrebbe essere anche i monaci nel loro piccolo si incazzano perché sono riuscito a fare incazzare anche i monaci con la storia sì guarda allora innanzitutto tra dieci anni l'abbazia di Chiaravalle compie novecento anni novecento wow quindi stiamo parlando di tempi lunghissimi di una fetta importante della storia della nostra città e è una storia che si basa soprattutto sui monaci che da San Bernardo in poi hanno trasformato un luogo di palude in uno dei più fertili al mondo e la canzone è nata in modo molto casuale nel senso che Claudio Bernieri che è un giornalista è un musicista un compositore ha sentito parlare dello stadio è venuto a Chiaravalle lui abita lì vicino è venuto a Chiaravalle ha girato un po' ha chiesto di parlare con qualcuno qualcuno gli ha fatto il mio nome ci siamo incontrati ci siamo bevuti un po' di caffè di cappuccini abbiamo parlato e dopo di che lui si è appassionato a tutta la vicenda ha fatto dei servizi molto belli sul suo blog che si chiama il reporter indignato su Chiaravalle ma non solo in negativo sugli aspetti appunto sulle preoccupazioni per il futuro ma anche per ciò che c'è ha fatto un bellissimo servizio su Terra Rinata che è un giardino condiviso in cui la natura si incontra con la spiritualità e poi ha cominciato a parlare con dei suoi amici questi che hai citato ed è venuta fuori una canzone che loro hanno scritto e hanno eseguito per la prima volta due volte domenica scorsa domenica 6 ottobre perché abbiamo fatto una grande iniziativa di apertura del percorso Chiaravalle per l'umanità loro l'hanno suonata sono venuti è tutto qualcosa che hanno fatto per passione gratuitamente tieni conto che Luciano D'Addetta qualche giorno prima aveva vinto il Leone di Vetro a Venezia per la colonna sonora del film Jacopo Ortis che tra l'altro ci ha regalato in anteprima a Chiaravalle una parte della colonna sonora devo dirti bellissima e quindi la canzone è nata così non so che strada farà Claudio è diventato un mio amico devo dire se posso permetterlo un fatto personale che dopo un bel po' che parlavamo insieme ho capito che lui ha composto una delle canzoni più importanti per chi come me ha fatto parte dei movimenti studenteschi degli anni 70 che è Piazza Fontana La Luna è rossa che quando l'ho scoperto come dire ho avuto di fronte a me che beveva il caffè un mio mito perché l'ho cantata e l'ho suonata per decenni è interessante come davvero poi tante tante intelligenze tante intellettualità tante spiritualità anche in realtà si stanno incontrando intorno a un luogo che posso dire questo è il lato positivo di tutta questa storia no no di fatti questo è un lato fondamentale ti dico anche a livello personale io in quest'anno la prima assemblea sullo stadio a Chiara Valle l'abbiamo fatta a Chiara Valle il 26 settembre quindi è passato un anno in quest'anno ho conosciuto centinaia di persone anche di di studiosi di appassionati ma anche di semplici milanesi che vengono a Chiara Valle e rimangono sempre affascinati ma anche perplessi perché un luogo così va valorizzato noi l'abbiamo pensato tanti anni fa che la valorizzazione dovesse passare per essere proclamato patrimonio in umanità non l'edificio non il borgo ma il sistema paesaggistico e culturale che è un sistema ovviamente costruito sul sistema barziale di Chiara Valle chiarissimo allora facciamo così adesso lo cerchiamo un attimino perché ci sono due o tre consigli per gli acquisti se no qua ci fanno chiudere la baranca quindi dobbiamo trovare il modo di tenerla aperta ma poi torniamo perché voglio parlare bene di questo percorso che si sta facendo quindi quali saranno i vari step cosa chi e cosa state facendo siamo stati un bel gruppo anzi forse ne serve anche di più quindi chi può venga a dare una mano siamo aperti a tutti benissimo allora andiamo con un po' di musica musica di oggi dagli anni 70 passiamo da Cervalla e poi arriviamo a oggi sto parlando di Olli e Angelina Mango con per due come noi alle 7.25 minuti Good Morning Milano Lucio Battisti una donna per amico 8.34 minuti Crystal Radio Good Morning Milano qui con Fabio Songa e stiamo parlando del percorso che ci porta verso patrimonio dell'UNESCO per Cervalla che speriamo ci porta ecco non lo porta a sfiga scusa Fabio c'è ragione no vabbè non siamo superstiziosi è un percorso appunto come abbiamo detto provo a in pochi secondi a spiegare innanzitutto nasce dal basso nasce dall'associazione di Chiaravalle che hanno negli anni la nostra è stata creata quasi vent'anni fa hanno posto il problema di una salvaguardia di uno sviluppo di Chiaravalle questo però è stato un po' un grido nel deserto abbastanza inascoltato salvo poche eccezioni invece ultimamente devo dire che abbiamo incontrato l'attenzione prima del municipio 5 che io continuerò a ringraziare di cuore di questo e poi anche del comune di Milano e abbiamo avviato e adesso sì a livello istituzionale questo percorso quindi la grande novità rispetto agli anni precedenti che mentre prima eravamo un'associazione di persone di buona volontà ma insomma con un po' deboli adesso abbiamo il comune di Milano e il municipio 5 che diventano capofila di questo percorso cosa vuol dire abbiamo fatto moltissime riunioni di commissioni sia del municipio sia del comune dove siamo arrivati siamo arrivati al fatto che il 2 agosto il comune di Milano ha la giunta di Milano ha avviato il percorso anche tramite un investimento non enorme ma insomma consistente per avviare questo percorso cosa vuol dire vuol dire che bisogna mettere insieme bisogna pagare bisogna pagare dei consulenti perché in realtà diventare patrimonio dell'UNESCO vuol dire che per anni ci siano commissioni e gruppi di lavoro che elaborano documentazione che propongano anche delle soluzioni ai problemi aperti e quindi va fatto da professionisti ci vuole l'appoggio delle istituzioni questo l'abbiamo ottenuto col comune e con il municipio e ci vogliono i professionisti e poi ci vorranno anche gli sponso perché poi cosa comporterà essere appunto patrimonio dell'UNESCO cioè noi dobbiamo spiegare dei soldi va bene facciamo tutta questa tre fila tutte le riunioni tutte le cose e poi va bene abbiamo la targhetta che ci attremmo lì e no ecco perché la targhetta non viene in modo facile perché c'è una commissione internazionale in cui ci sono membri magari dello Sri Lanka piuttosto che dell'Indonesia che devono valutare quindi stiamo parlando di qualcosa di molto complesso e ovviamente ci vogliono delle azioni incisive per arrivare a questo nella salvaguardia tutela e sviluppo del territorio quindi detto in maniera molto brutale per i cittadini di Chiaravalle e per coloro che da Milano e da altre zone vengono a Chiaravalle per godersi vorrà dire trovare un posto molto più pulito molto più servito con un'attenzione all'ambiente perché dice anche molto più servito perché comunque vengono anche richieste certe facilities per renderlo certo è una cosa molto complicata io non sono come dire in grado di darti delle spiegazioni tecniche anzi magari si potrebbe fare una trasmissione invitando gli esperti quando vuoi quando vuoi però noi ci candidiamo come paesaggio culturale paesaggio culturale paesaggio culturale quindi l'abbazia ovviamente è il centro anche storicamente il centro di questo paesaggio paesaggio culturale come dicevo prima per il ruolo svolto dai monaci e questo vuol dire che per esempio banalmente questi gruppi di lavoro devono definire i confini di questo paesaggio culturale ti faccio un esempio molto concreto perché ci tengo ieri mattina Nocetum ha organizzato una passeggiata da Viboldone a Nocetum quindi attraversando Chiaravalle a piedi perché stanno valutando in una commissione in rapporti con la commissione regionale stanno valutando il percorso dei monaci il cammino dei monaci che si inserirà nei cammini dei monaci a livello nazionale e quindi stanno studiando anche i percorsi che si possono fare a piedi in bicicletta e tra l'altro anche percorsi che siano adatti a disabili per esempio ieri dovevano passare dall'area di San Francesco diciamo tangenzialmente non entrarci perché è privata però è interessata appunto all'idea dello stadio e sì e quindi lo sviluppo che noi pensiamo è anche uno sviluppo inserito nella valle dei monaci nel cammino dei monaci e quindi pensiamo a stazioni di cambio di biciclette a luoghi di ristoro a spostamenti dolci in bicicletta o a piedi questo è secondo noi lo sviluppo che rispetta ciò che è l'originalità di Chiaravalle e fin qui sono le belle notizie poi adesso ci ascoltiamo una canzone ma dopo che abbiamo invece che insomma c'è chi da una parte vuole fare il cammino dei monaci vuole portare positività alla zona chi dall'altra parte prendendosi un San Francesco decide che si potrebbe sostituire a un San Siro ecco quindi tutta questione di Santi e ecco perché i monaci si incazzano a me comunque questa cosa che il Milan è riuscito a far arrabbiare i monaci quando tua amma ti diceva tu faresti incazzare anche i Santi ti dicevano ecco loro ce l'hanno fatta quindi questa cosa mi fa impazzire davvero andiamo con un po' di musica poi torniamo qui con Fabio Song a parlare appunto di farci capire un po' come sta andando adesso la situazione a che punto siamo so che neanche tu lo sai inoltre ma posso dire come nessuno sa a che punto siamo però forse potremmo cominciare a fare un po' di idee di scenari possibili e speriamo che il scenario quello che invece funzionerà e alla fine avremo sarà quello del patrimonio dell'UNESCO paesaggistico paesaggio paesaggio culturale paesaggio culturale di Chiaravalle ma suona anche e molto molto bene adesso Zucchero amor che muovi il sole appunto amor che muovi il sole Zucchero ma si muove anche il cielo le stelle sotto il cielo di Chiaravalle si muovono tante cose no Fabio Songa si si muovono tante cose il 6 ottobre abbiamo fatto la presentazione ufficiale ok devo dirti che è stata una giornata bellissima perché è cominciata la mattina con la visita a terra rinata di cui parlavo prima poi abbiamo fatto un concertino davanti cioè hanno fatto un concertino davanti alla Beccheri che è il bar panetteria pasticceria focacceria di Chiaravalle e hanno eseguito la ballata di Chiaravalle di cui dicevamo prima poi ci siamo spostati al mulino che è un posto bellissimo visitato da 15.000 bambini all'anno per darci la dimensione è un posto didattico anche in cui fanno vedere il pane il grana padano una cosa molto interessante ci siamo spostati lì perché l'ingegnere Iurina ha presentato lo spacchettamento cioè la fine dei lavori della cirbiciacola che dopo alcuni anni è tornata al suo splendore e ha spiegato le difficoltà tecniche di farlo e poi ci siamo spostati a Terzo Paesaggio che è un luogo importantissimo di Milano e di Chiaravalle ovviamente in cui appunto è stato presentato il percorso e lì sono intervenuti sia amministratori sia anche le persone incaricate che sono la Bocconi e BIA che è una società di consulenza incaricati di avviare il percorso cosa vuol dire in maniera molto semplice che entro dicembre bisognerà presentare uno studio di prefattibilità come si fa guarda anche in modo molto semplice stiamo facendo sopralluoghi stiamo girando Chiaravalle i suoi dintorni immagino poi tu sei chiaravellese da 30 anni chissà quante cose però stai scoprendo ancora continuamente continuamente soprattutto lì è un luogo storico fondamentale prima parlavo di Nocetum forse molti non sanno che quando Barbarossa ha devastato Milano non Luca non quello l'alto Barbarossa un po' più anziano ha devastato Milano i cittadini di Milano sono scappati e una quota consistente sono scappati nel borgo di Nocetum tra l'altro lì c'era anche una zecca imperiale pochi lo sanno ma è una cosa interessante per cui lì tra Chiaravalle e Nocetum era una zona di centuriazione romana quindi voglio dire magari un giorno si troverà qualcosa scavando non dire così magari quelli scavano per dire ah vedi facciamo lo stadio apposta per vedere cosa c'è sotto quasi quasi mi veniva voglia di rubare una statua portarla se perlirla farla tirare fuori da San Francesco e bloccare tutto per decenni no vedi lo facciamo apposta così facciamo vedere che adesso non vorrei che ci fosse un furdo di statua ma restasse da qualche parte no è qui l'alibi l'alibi c'è è qui e qui e ahimè ora che da qui Tonya Chiaravalle ne passa di tempo perché sono messo un bel viaggio nonostante la M4 comunque non ci aiuta in questo caso devo dire che ho fatto ancora una volta volentieri questo viaggio è la terza volta che vengo da te e qua mi trovo benissimo grazie mi illusinga questo grazie senti dacci manca poco manca poco chiudiamo ma dacci un po' punto allora cosa avete pronto nei prossimi mesi settimane allora il bello è che non è che gli ho chiesto prima avete cose so già che hanno cose quindi non è che chiederglielo cosa hanno pronto da raccontarci ma guarda per fare le cose bene innanzitutto bisogna studiare ok per esempio bisogna capire come dicevo i confini e quindi che cosa ci va dentro per esempio andrà dentro sicuramente Casa Chiaravalle che è un bene sottratto alla mafia che adesso è gestito da associazioni andrà dentro Nocetum andrà dentro la cascina Carpana che sarà oggetto di un intervento importantissimo promosso dalla Casa delle Donne Maltrattate per dare lavoro a madri con bambini con ristoranti entreranno tante l'abbazia di Viboldone l'abbazia di Viboldone eh sì e quindi una ricognizione ampia tutto questo e quanti metri quadrati hai? perché sono pensato cioè due abbazie così una attaccata all'altra praticamente guarda non te lo so dire sono vicinissime però c'è nel senso sono cioè e vi fa capire come la zona era così importante no no due abbazie veramente nel dacco di qualche chilometro quadrato guarda già è stata devastata purtroppo da tangenziali linee ferroviarie tieni conto che fino a vent'anni fa quando io sono arrivato a Chiaravalle c'era ancora la linea di Milano-Genova che passava a pochi metri dalla Cirbiciacqua che ha causato negli anni danni importantissimi alla struttura e soprattutto che quando è stata costruita ha portato ad abbattere il chiostro di Bramante quindi voglio dire i devastatori sono sempre esistiti però l'importante è che i cittadini e anche la buona politica che ogni tanto c'è fermi i devastatori quindi quello che si diceva prima su San Donato è che se ci fosse una buona politica lì il sindaco poteva dire subito no come ha fatto il sindaco di Segrate come ha fatto il sindaco di Cassinetta di Luganiano come ha fatto il sindaco di Buccina non è che hanno detto andiamo a farlo lì prima di arrivare lì hanno fatto un po' di peregrinaggi in giro per altri mi ricordo anche io parlo quasi 30 anni fa si parlava anche di Cusago poi si è parlato è andato praticamente ovunque questo stadio si è fatto tutti i quattro cantoni e io spero che faccia la cosa più logica torni a San Siro riqualificato non con un altro stadio a finire riqualificato perché non c'è bisogno di abbattere San Siro né di bisogna riqualificarlo cioè voglio dire WeBuild ha presentato un progetto non è esattamente una società di scappati di casa ma insomma sono quelli che hanno fatto la M4 e quelli che sabato mattina sono stati osannati e applauditi dal sindaco dal ministro e dal ministro insomma quindi se da una parte si dice che sono bravi a fare le cose non si capisce perché in questo caso magari non ascoltarli sarebbe interessante anche perché appunto l'idea di riqualificare lo stadio di San Siro che è in ottime condizioni comunque ricordiamoci sempre questo è in ottime condizioni tanto che doveva esserci una finale di Champions League che ci hanno tolto però perché non sanno più se lo stadio ci sarà o no cioè più che altro non sanno in che condizioni sarà il resto intorno allo stadio ma lo stadio è in ottima condizione ancora oggi quindi basterebbe veramente poco per far diventare e ritornare ai giusti fasti e anche poi darmo le società insomma capiamo che le società insomma da qualche parte il business lo devono fare perché solo tirando pescià dal palun non sta andando molto bene ecco infatti volevo arrivare anche a quello infatti da milanista lo dico con tristezza beh però può essere una speranza perché se va male non c'ho i soldi per fare lo stadio vedi eh Fabio devi capire da che parte il tuo cuore si divide in due adesso si 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 divide in due ma il cuore sano è quello che batte per Chiara Valle e allora grazie mille Fabio Songa grazie a voi grazie a tutti porti i nostri saluti a tutto il grande comitato vi aspettiamo tu mi devi portare la prossima volta mi porti un monaco voglio un monaco incazzato qua ti prego io voglio però è possibile ma loro sono in una dimensione fra incazzato lo chiameremo chiameremo così però devo dirti che c'erano alcuni monaci a sentire la canzone e si sono commossi vedi eh ma vedi perché insomma perché parla di loro della loro storia del loro cammino e questo è importante cammino cammino che continuate anche voi che farete insieme tra monaci e non solo tra queste intelligenze di cui parlavamo per poter sperare per poter speriamo di vedere un giorno appunto Chiara Valle patrimonio mondiale dell'UNESCO che insomma se lo merita e come grazie mille Fabio Songa grazie andiamo con un po' di musica poi torniamo qui con i saluti finali sempre qua con Manica Iana adesso una ragazza Cristal Radio Good Morning Milano 8 e 55 minuti di lunedì 14 ottobre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano e allora dopo di noi lo sapete benissimo c'è Ambrogio Curti con Sinti Queste e poi è lunedì e quindi alle ore 10 c'è il tacchino curioso dove andremo oggi dove scopriremo cosa scopriremo di nuovo su Milano beh lo saprete solo ascoltando il tacchino curioso ma prima alle 9.05 dopo il giornale radio appunto Ambrogio Curti con Sinti Questa e se invece volete riascoltarci lo sapete come sempre c'è il nostro sito goodmorning.milano.it potete riascoltare tutto quello che succede qui in studio se ad esempio lo dico sempre volete entrare in ufficio non preoccupatevi andate pure a lavorare fate il vostro dovere poi dopo quando tornate a casa la sera ci siamo noi c'è il nostro podcast su Apple Podcast su Spotify potete ascoltarci tranquillamente perdendo dal nostro sito goodmorning.milano.it le voci che avete sentito quest'oggi sono state quelle di Luna Spina Caruso Fabio Songa e qui al microfono Fabio Ranfi in regia come sempre Beatrice la redazione c'è Beatrice e Gineva scusate mi sono confuso le due però sapete sono così brave che me le confondo sempre grazie mille ciao a domani è lunedì è lunedì anche per me Beatrice ciao 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 ciao